Amore, mamma e papà ci sono sempre. Se sei in difficoltà, possiamo chiedere noi aiuto. Incontrerete dei ragazzi che stanno lottando con i loro problemi. Siete gentili. Bisogna trovare allora una ragione per chiedere aiuto per le persone più deboli. C'è una tua foto che è stata pubblicata su internet, diciamo particolare. Non preoccuparti, adesso stiamo insieme.